Sono Gian Paolo Milizia di Latina, sono qui al sito della centrale nucleare di Latina, ormai chiusa dopo il referendum del 1987. Questa centrale è stata costruita sul finire degli anni 50, quando la richiesta di energia elettrica in Italia marciava a incrementi intorno all'8-10% l'anno. Quindi aveva un senso questa costruzione di centrali, insieme a questa fu costruita quella del Garigliano e anticipata da quella di Trino Vercellese. Questa situazione che c'era anni fa non è certo la stessa che possiamo avere adesso. Non abbiamo più incrementi di richiesta di energia elettrica dell'ordine dell'8-10%, le stime più ottimiste ci possono indicare intorno al 2% l'anno. Non siamo più in una fase di richiesta notevole di energia elettrica, ma quello che può essere assicurato dalle fonti alternative quali l'eolico e il fotovoltaico con i dati a disposizione degli ultimi anni riescono benissimo a compensare quello che è l'aumento leggero e di qualche punto percentuale anno di energia elettrica. Ci verranno senza altro a dire che il rischio è limitato perché chiaramente sulla carta la progettazione viene sempre fatta a un livello di rendere questo rischio limitato a una parte su milioni o comunque dell'ordine di 10 alla sesta, milioni o miliardi. Poi però conta quello che è la manutenzione, l'ordinario lavoro di tutti i giorni all'interno della centrale con quello che è un conto, l'errore umano, ma soprattutto quello che è una manutenzione che a volte può essere trascurata puramente per questioni di risparmio. Qui secondo me passerà come minimo un decennio prima che si possa muovere qualche cosa se si riuscirà a realizzare qualcosa. La modifica nel parco delle centrali in Italia avviene tutti i giorni senza grandi proclami e consiste nella diffusione del fotovoltaico e soprattutto nella diffusione dell'eolico. Negli ultimi due o tre anni sono stati complessivamente installati intorno ai mille megawatt l'equivalente di quattro centrali di questo tipo qui. Ci troveremo ad affrontare come partito uno scontro molto duro. Abbiamo pochi mezzi di informazione a nostra disposizione, dobbiamo far fronte con una propaganda capillare, avere ogni nostro iscritto, avere quei pochi elementi fondamentali per poter controbattere quei punti che ci verranno continuamente riproposti e cioè lo scarso, il più basso costo del kilowattore e le emissioni zero che tra l'altro le emissioni zero è anche l'eolico e anche il fotovoltaico. È un momento proprio, è un'occasione che abbiamo proprio di sconto, di prospettive di come noi vogliamo una società che non sia basata su un aumento senza alcun controllo delle fonti d'energia.